Un protocollo d'intesa fra i porti di Bari e Durazzo per migliorare la qualità e la quantità dei collegamenti fra Puglia e Albania e della GNV Grandi Navi Veloci. L'accordo di efficacia triennale con possibilità di rinnovo è stato siglato ieri a Bari alla presenza del primo ministro albanese Edirama, dal commissario straordinario dell'autorità portuale del Levante, Mariani, e dal presidente dell'autorità portuale di Durazzo, Scalzi. GNV è approdata a Bari a luglio scorso in aggiunta a tre servizi di linea giornalieri proprio per soddisfare l'esigenza di potenziare e migliorare l'offerta traghetti nello scalo barese in forte espansione. Il traffico passeggeri fra gennaio e agosto ha raggiunto 514.000 unità con un segno positivo del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2014. Nel solo mese di agosto, quello di maggiore concentrazione del traffico passeggeri da e verso l'Albania, sono state superate le 220.000 unità con una crescita percentuale del 14%. Anche il numero delle auto è cresciuto del 17%. Il porto di Bari costituisce oggi il principale gateway per il collegamento con l'Albania, di cui il porto di Durazzo rappresenta il nodo logistico primario, catturando quasi l'80% del traffico verso l'Italia, viceversa circa l'89% del traffico passeggeri ferris che attraversa il porto di Durazzo passa dal porto di Bari. Nella pratica l'accordo siglato ieri migliorerà i collegamenti fra i porti frontalieri di Bari e Durazzo, puntando soprattutto sull'integrazione dei sistemi informativi per semplificare e velocizzare i controlli di frontiera ed avrà quindi ricadute positive immediate sulla operatività dei collegamenti fra le due sponde.